di elettrostatica, ovvero di situazioni in cui il campo elettrico è generato da distribuzioni di cariche ferme. L'abbiamo fatto utilizzando dei vettori, come la forza di Coulomb o il campo elettrico. In questa lezione inizieremo a vedere come le stesse cose possono essere espresse in un linguaggio più semplice. Utilizzeremo quantità scalari, cioè semplici numeri. Grazie a tutti.